Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi sono davanti all'almadio di Matilde perché sto trovando una grandissima difficoltà a sistemare le cose che stanno usando quotidianamente. Siamo a fine ottobre, qua ancora abbiamo le maniche corte, c'è ancora caldo, non so se nel resto dell'Italia è ancora così, anche se credo che voi questo video lo vedete a novembre. Come vi dicevo sto trovando grandissima difficoltà a sistemare le cose che stanno usando quotidianamente le bambine a scuola e all'asilo perché purtroppo ho ancora gli armadi pieni di cose estive. Quindi io siccome non riesco a trovare una giornata in cui dedicarmi al cambio degli armadi e farlo bene una volta per tutte, ho deciso che comunque nonostante oggi ho un minimo ritaglio di tempo devo iniziare, devo iniziare perché non so più dove sbattere la testa. Ho la roba completamente ammucchiata, mi dà un fastidio tremendo perché io stiro e poi mi trovo le cose tutte stropicciate perché giustamente sono ammassate ed è una cosa che odio tremendamente. Quindi ho detto vabbè oggi ho un'oretta a disposizione, mi metto e faccio una cosa per volta. Oggi mi dedico all'armadio di Matilde, se riesco domani o dopo domani mattina farò quello di Rebecca, insomma appena ho un'oretta libera. Per il mio come sempre credo che arriverò a farlo a dicembre perché è sempre l'ultimo. Io fino a dicembre ho le magliette a maniche corte nel mobile e poi devo correre da una parte o dall'altra per andare a cercare i maglioni. Vita da mamma, quindi adesso vi faccio vedere in linea generale il casino che c'è nell'armadio di Matilde e poi andiamo a sistemare insieme a dividere le varie cose. Per quanto riguarda il cambio dell'armadio di Matilde il mio modo di procedere è questo. Tiro fuori tutto e poi devo fare tre pile praticamente. Mettere via intanto i vestitini piccoli che non restano più da donare. Mettere via da un'altra parte i vestitini che invece possono ancora potrebbero ancora andarle bene l'anno prossimo, l'estate prossima, quindi sperare che qualcosa le vada ancora bene e poi naturalmente tirare fuori invece tutti i vestitini della scorsa stagione, dello scorso inverno sperando che le vadano ancora bene perché sicuramente qualcuno di quelli che avevo messo via non le andrà più bene quindi anche quello va messo da parte per essere donato e tutto quello che invece si può utilizzare va messo dentro l'armadio. Ora basta parlare e facciamolo. Come vedete qua c'è il delirio, qua ci sono tutti i vestitini estivi ancora appesi, qua abbiamo i grembiolini e qua ci sono anche dei vestitini già quelli autunnali comunque che stiamo utilizzando. Qua dietro adesso vi vado a far vedere il caos più totale perché è tutto ammucchiato, qua idem, qua sotto nella zona dei pigiamini non ci stanno più i pigiamini a maniche lunghe perché è pieno di cose maniche corte da eliminare. Qua ci sarebbero le calze sotto ma sopra è pieno di vestiti. un disastro. Le uniche cose un po' più ordinate sono il cassettino con le mutandine e le canotte e il cassettino con le calzine. Poi vabbè lì sotto non fateci caso perché ci sono comunque altri cambi che devo tirare fuori e i giubbottini. Adesso una cosa per volta andremo a tirare fuori e a risistemare. Poi vabbè lì sotto non fateci caso perché ci sono un po' più ordinate. Poi vabbè lì sotto non fateci caso perché ci sono un po' più ordinate. Ma quanta roba ha questa bambina? Allora in realtà tantissime di queste cose arrivano dalla sorella perché naturalmente tutto quello a cui Rebecca non stava più io l'ho tenuto da parte proprio nell'eventualità di una sorellina. E quindi tante cose sono in realtà riciclate. Sono così nel vintage come ad esempio questa, questa, le felpe, in realtà tante cose. le canadesine, le tuttine della Decathlon, magliettine, anche questa era di Rebecca, questi, questa era addirittura della cuginetta, questa era di Rebecca, questa era di Rebecca, insomma questa roba qua sotto la di Rebecca. ci sono tante cose riciclate, quindi effettivamente è sempre tanta, la roba è tanta per una bambina di tre anni. Però Matilde cresce in fretta, quindi qua in mezzo ci sono sia cose tre anni che cose quattro anni. addirittura mi sono reso conto che un paio di leggings, di jeggings, che sono dei jeans elasticizzati che le ho preso taglia a quattro anni, non ne stanno già più, perché proprio non le salgono di cosce e di sedere. Pensavo che fosse allora un problema del pannolino e invece non era un problema del pannolino, quindi probabilmente li dovrò già dare via, li ho usati pochissimo, però pazienza insomma. Allora, ci sono delle cosine, come ad esempio questi, questi maglioncini imbottiti, oppure la mantellina, che in realtà sono cosine da casa, che io le metto la mattina quando si sveglia. Io quando vado a svegliare le bimbe, loro hanno la loro bestaglietta, o nel caso di Matilde, la mantellina o la felpina, insomma, e gliela faccio indossare, perché uscendo calda dal letto ho sempre paura che, insomma, che si ammalerò. In definitiva. E quindi niente, adesso andiamo a smistare un pochino le cose, dalle cose proprio invernali, invernali, che terrò comunque dietro, e invece terrò davanti, nelle scatoline, le cose di mezza stagione. Questa è l'impressione che sia ancora enorme, infatti cinque anni. Ok, questa la mettiamo via per adesso, e procediamo. Eccoci qua. Naturalmente quell'altro giorno non sono riuscita a farvi vedere un tubo, come sempre, perché è finito il tempo, era l'una e dovevo preparare da mangiare, quindi ho mollato tutto. e sono andata a preparare il pranzo per la mia famigliola. Scusate i capelli da pazza stamattina, ma non avevo nessunissima intenzione di farmi la piastra, anche perché li ho tagliati, perché erano veramente molto rovinate le punte, tanto rovinate, e quindi adesso mi sono ripromessa di cercare di farla quanto meno possibile. Vi faccio vedere intanto come è venuto il mobile di Mattilla con il cambio dei vestitini fatto. Quindi nella parte di sopra, nella penneria, abbiamo naturalmente tutti i vestitini, io ho iniziato da quelli un pochino più lunghi e più pesanti, quindi ho messo gli scamiciati, quest'altro che ha già dall'anno scorso, che è bello grossino, i vestitini di cotone un po' più leggeri, le camicette, le gonnelline, questo maglioncino senza maniche, che non so se le farò mettere magari quando gioca a casa, giusto per coprirle il busto, qua invece abbiamo i grembiolini, che sono belli lunghetti, come vedete, quindi le ho messe in queste gruccette che sono un po' più corte. Sia Matilde che Rebecca ne hanno tre a testa, Matilde li fa fuori tutti in una settimana, quindi è già tanto se riesco a fargliene durare uno o due giorni, e gli altri due naturalmente vanno a rotazione, loro fanno sei giorni di mensa, quindi è sicuro che ogni due giorni devo mettere il grembiolino pulito. Quindi tre a ciascuno. Qua sotto abbiamo le scatole, come sempre, abbiamo qua le cose che sto utilizzando effettivamente, quindi le magliettine a maniche lunghe, naturalmente poi quelle che mancano sono a lavare, i pantaloncini, i leggings che sta ancora mettendo adesso di cotone, quelli leggeri leggeri, e poi via via aumenta la pesantezza, questi sono dei tipo jeans però in cotone, questi sono dei pantaloncini felpati, felpati con garzati, non felpati, garzati, e questo è lo stesso, sono dei pantaloni di tuta. Qua invece ho messo da questa parte le giacchine più leggere, quindi i cardigan di cotone leggero leggero, una felpina lo stesso, garzata, che era di Rebecca in realtà, e poi qua ho le tutine complete invece con pantaloni e felpina sempre garzati. Qua invece ho messo tutti i jeans e i pantaloni felpati, quindi quelli proprio grossi e caldi, e nella parte di dietro, come vedete, ci sono invece le cose felpate, quelle proprio invernali, invernali che ancora non stiamo utilizzando perché anche oggi ci sono 24 gradi, quindi le ho comunque tenute nella parte di dietro, e quindi ci sono sia le tutine che i maglioncini, quelli un po' più grossi, e le felpine in pile, che naturalmente ancora non si utilizzano, e qualche magliettina a collo alto. Ho notato che ne ho solo tre, quindi sicuramente quelle dovrò andare a ricomprarle, perché d'inverno sinceramente preferisco metterle una magliettina a collo alto, perché almeno la gola è più protetta, insomma. Mi ci trovo abbastanza bene. Nella parte di sotto invece, in questo ripiano, come avevo già fatto l'anno scorso, ho lasciato, cioè nel senso, qua ho tutte le calzine, vabbè, dietro ho le scorte, nelle buste, come vedete. Invece qua ho messo nel primo scomparto tutte le calzine antiscivolo, che Matilde utilizza sia a casa quando sta giocando, perché purtroppo la posso rincorrere per 26 ore consecutive, ma non si mette le ciabatte, non ne vuole sapere. Quindi le metto le calzine antiscivolo. Poi abbiamo tutti i collant leggeri, che sta utilizzando ancora in questo periodo, vediamo un po', eccolo qua, quindi quelli trasparenti, insomma. E qua invece ho tutti i collant pesanti. In realtà qua ci sono sia quelli che ho tirato fuori di Rebecca, quindi riciclaggio puro, che dell'età di 4 anni, sia quelli che Matilde utilizzava l'anno scorso, perché devo ancora fare la cernita di quali le stanno e quali no. Non ho idea di quanto sia cresciuta, quindi una volta che andrò a tirarli fuori, mi renderò conto quando li li sto mettendo, se le stanno ancora, li li metto, altrimenti metto via e ne tiro fuori un altro. E così quello lo potrò fare, diciamo, nel momento in cui vado a utilizzare proprio le calze, altrimenti è abbastanza impossibile. Qua nel cassettino di sotto invece ho tutte le calzine di... Oh, è questa. Questa è scappata, fa parte di questa famiglia qua. Vabbè, con una mano è abbastanza improbabile che io riesca a infilarla dentro. Ce l'ho fatta, eccola qui. Qua invece ho tutte le calzine, proprio i calzini corti, quelli che sto usando adesso, e qua quelli con il pizzetto di mille e mila anni fa. No, vabbè, sono dell'anno scorso, però alcuni le stanno ancora, quindi li lasciamo in uso. Qua invece abbiamo le mutandine, le canottiere, e dietro ho i cambi di bavaglie e asciugamanini dell'asilo. Qua di lato invece ho messo i pigiamini di cotone, che sono in uso adesso, delle cosine che le stanno un pochino cortine di maniche, quindi non mi piace da mettergliele per uscire, ma comunque come pigiamini di scorta vanno benissimo. E dietro, dietro, in fondo invece ci sono le mantelle, la mantella e i pigiamini, quelli felpati invernali. Vabbè, nella parte di sotto poi c'è il casino solito, quindi qua ho voluto mettere, ci sono gli accappatoi e i giubbutini ancora non in uso, quelli più più grossi e grossi, e tutte le borse, borsette, borsine e zainetti delle bambine. Voi non avete idea della quantità di roba che hanno. Cioè, si dice tale madre e tale figlia, ma veramente... Guardate. È una roba improponibile. Una a 9 anni e l'altra ne ha 3, se vi pare normale. Vabbè. Ora, con tanta, tanta, tanta pazienza, andremo a fare lo stesso identico lavoro per l'armadio di Rebecca, che come vedete ha ancora i vestitini estivi appesi. E non ho ancora preparato l'organizzazione qua della settimana, nonostante la scuola sia genizzata da un mese. Mi sono trascinata con questa storia del cambio degli armadi e non ho ancora fatto niente. Quindi adesso sistemeremo tutto e inizierò a programmare i vari giorni della settimana, così come avevo fatto già vedere nell'altro video. E niente ragazzi, al lavoro! Cosa sale? No della settimana. No da sola. Se realiziamo i tillee. Anche a passalo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io adesso ne andrò a mettere uno nell'armadio di Rebecca e uno nell'armadio di Matilde in modo che ogni volta che andranno ad aprirlo ci sarà un bel profumino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, a questo punto ho rimesso dentro per sommi capi le cose suddivise, quindi i pantaloni più pesanti dietro. Come avete visto le cose veramente pesanti, quelle felpate grosse le ho nascoste dietro questo, dietro lo scaffaletto perché tanto per il momento non servono. Quindi le ho proprio tolte dalla circolazione. E invece qua ho lasciato la pila dei pantaloni, dei jeans, dei jeggings, dei pantaloni un po' più di pesantezza media. Qua davanti invece abbiamo tutti i leggings, quindi i pantaloni, quelli leggeri e leggeri, le giacchine leggere e le felpine e i maglioncini di cotone. Quindi quelli che si possono iniziare a mettere adesso a breve e poi continuerò a mettere in realtà per un bel pezzo. Ho ancora da sistemare le magliettine a collo alto che sono questa pila qui che devo andare a mettere nel primo cassetto che è il cassetto dedicato alle magliette. In realtà parte di questo cassetto è ancora impegnato e occupato dalle magliettine a maniche corte e dalle canottiere. Io adesso andrò a fare la stessa cosa che ho fatto per il resto, quindi andrò a tirare fuori le magliette che non utilizzerà più. Lascerò giusto qualche magliettina che invece utilizza ancora per andare a fare ginnastica, per andare in palestra. E niente, lascerò solo le magliette a maniche lunghe. Ok, anche il cassetto delle magliette è sistemato, quindi ho lasciato sette magliettine a maniche corte, le magliette a maniche lunghe che le stanno, quindi quelle nuove, vabbè, poi ne altre che sono a lavare, e le magliettine col collo alto. Quindi a grosse linee la sistemazione è fatta. Adesso andrò a preparare invece i vari cambi della settimana, utilizzando finalmente l'organizzatore che mi era già prefissata l'anno scorso. Cioè l'anno scorso l'abbiamo utilizzato, ma quest'anno ancora non avevo sistemato e diviso le cose, quindi non avevo lo spazio. Adesso invece andremo a preparare insieme proprio tutte le cose che le serviranno materialmente, quindi vestiti, intimo, tutto quanto, per il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. In base naturalmente al tipo di attività che deve andare a fare, perché ad esempio se io so che Rebecca ha palestra, ha ginnastica il lunedì, il venerdì di pomeriggio, ma tanto vale la vesto già dalla mattina sportiva, e il sabato ha ginnastica a scuola, quindi per quei tre giorni so già che le devo mettere qualcosa di comodo, quindi un pantalone con una magliettina, un leggings con una magliettina, e invece ad esempio il martedì, il mercoledì e il giovedì potrei eventualmente mettergli qualcosa di un po' più elegante, quindi se ne ha voglia di un vestitino, di una gonnellina, eccetera, eccetera. Con una magliettina un po' più particolare, insomma. Quindi niente, procediamo. Per il lunedì, prima di tutto, prima di dimenticarmi, so benissimo che devo darle l'asciugamandino pulito da mettersi nello zaino, quindi lo metto nello scompartimento ed è già pronto. Di pomeriggio a palestra, quindi cosa faccio? Prendo un leggings leggero, perché altrimenti ha caldo, e le metto una magliettina abbastanza semplice, che può essere questa, da mettere a scuola. Eventualmente ci fosse molto caldo, la faccio cambiare dopo pranzo, le faccio mettere la magliettina maniche corte, con eventualmente una giacchina sopra. Quindi, pantalone e maglietta, mettiamo qua, le mutandine, e le mutandine, perché in realtà la sera, quando loro si fanno la doccia, cambiano canotta e calzine, e quelle vanno bene per l'indomani, cioè non è che vanno in casa, o a rari terreni, quindi sono pulite. Vanno benissimo quelle che mettono la sera dopo la doccia, anche per l'indomani. Ok, questa è in linea generale, è come sono riuscita a sistemare il mobile, con tutti i vestiti di Rebecca. Allora, naturalmente appesi ci sono tutti i vestitini, e le gonelline. Da questa parte, ho messo, diciamo, i tre vestitini più eleganti, quelli da cerimonia, che non mi va di tenere piegati nel mobile, e schiacciati, perché sarebbe un disastro, quando dovrei andare a tirarli fuori, e a stirarli, quindi li ho semplicemente appesi qua, e li ho abbinati a delle giacchine di cotone, questo è blu di tulle, non so se si nota, eccolo qua, con tanti tanti strati, veramente andare a stirarlo, sarebbe una disperazione. Quando lo lavo, lo lavo semplicemente a mano, dopodiché lo appendo direttamente, nella taccapanni, e fa tutto da solo, nel senso che poi, non ho necessità di stirarlo, solo i nastrini, questi qua di raso, che ha per chiudere dietro, per fare il fiocchetto, questi sigli li vado a stirare. Quindi, i tre vestitini, diciamo che, sono semi estivi, ma sono da cerimonia, quindi li lascio comunque appesi. Poi abbiamo i grembiolini, io adesso qua ne ho solo uno, perché una lavare, l'altro ce l'ha addosso, e poi ho messo tutti i vestitini, quelli più lunghi, naturalmente per grado di pesantezza, quindi qua quelli più pesanti, qua quelli di cotone un po' più leggero, e poi alla fine le gonnelline. Di qua abbiamo l'organizer, con tutte le varie cose emesse, quindi come vi dicevo, l'asciugamanino pulito, per la settimana da mettere nello zaino, leggings, maglietta e mutandine, per il lunedì che a ginnastica. Per il martedì, le ho considerato invece, un paio di collant, da abbinare a uno dei vestitini leggeri, e le mutandine. Mercoledì, magliettina e jeggings, con le mutandine, il giovedì invece, le ho messo una maglietta, con le mutandine, e un paio di collant, perché vorrei che scegliesse invece, una delle gonnelline, credo che metterà questa rosa di tulle. Sì, mia figlia è molto principessa, da questo ha preso da me, anche se non si direbbe nei video, perché non mi vedete mai vestite elegante, ma io in realtà quando esco, sono quasi sempre elegante. Il venerdì invece a palestra, quindi semplicemente leggings e magliettina, con gli slip, e il sabato ha sempre ginnastica a scuola, quindi maglietta, leggings e mutandine. Qua, come vi ho detto prima, ho sistemato in quel modo lì, ho cambiato solo qua la disposizione, ho portato avanti le felpine, quelle più leggere, perché dietro, qui dietro, invece ho messo le tutine, e una felpina, che sono in realtà dell'anno scorso, ma sono molto molto sciupate, perché le ho usate tanto, e quindi magari quelle le andrà a utilizzare, se andiamo in campagna, se andiamo, che ne so, alla casetta, a controllare, se vogliamo portarle un pochino in pienetta, quindi quelle cose, preferisco che non si metta i vestiti, né che usa per uscire, insomma. Qua, primo cassetto, le magliette, come vedete, molto spazio libero, una volta che si sistemano tutte le cose nell'organizer, quindi in realtà, ci potrei spostare giù anche le giacchine, ma per il momento vediamo come va così. In quest'altro cassetto, invece, abbiamo l'intimo, ecco questo, è già un problema che non mi piace, questa cosa delle maniche che scendono, gliele devo ripiegare dentro, qua invece abbiamo il cassetto con tutte le, tutto l'intimo, quindi tutte le calze corte, andando per ordine, qua ci sono quelle cortine cortine, e queste invece sono quelle più lunghe, qua abbiamo tutte le calzine anti scivolo, che avrebbe causa in palestra d'inverno, perché c'è il pavimento ghiacciato, e non voglio che sia mali, i collant, quelli leggeri, e quelli pesanti più dietro, gli slipini, e queste invece sono le cose che utilizza quando fa danza, quindi quando va a fare il saggio, e proprio di solito, quindi sono le culotte, i reggiseni, cioè i top, la retina per tenere i capelli, eccetera, eccetera, e qua sotto invece, è il cassetto delle canottiere e dei pigiami, quindi le canottiere le ho piegate tutte, le ho messe all'interno di queste scatoline, perché almeno rimangono più ordinate, e qua abbiamo tutti i pigiami, in realtà quelli più pesanti, perché quelli leggeri, come vedete, sono tutti a lavare, speriamo che abbia finito l'asciugatrice, così riesco a sistemarli prima di sera, e niente, qua in fondo l'ultimo cassetto, non ve lo apro, perché altrimenti esploderebbe, come vi ho già detto l'altra volta, ci sono dentro tutti i tutù, le cose che Rebecca ha usato nei vari saggi di danza, accessori vari, quindi anche capellini invernali, eccetera, quindi quello è meglio che stia chiuso, niente, volevo farvi notare questa cosa che invece ho fatto per lei, aspettate perché l'ho appesa male, così è troppo bassa, ok, è troppo bassa perché è a livello di Matilde, se ci arriva Matilde è finita, praticamente Rebecca aveva un portagione, per mettere le sue collanine, i suoi braccialettini, e gli orecchini, solo che gli orecchini non si attorcigliavano, quindi riusciva a tenerli, in grazia di Dio, a tenerli bene ordinati, e invece le collanine e i braccialetti, erano sempre perennemente tutti indrecciati, allora siccome una bambina, non gli si può pretendere di fare chissà cosa, ho scogitato questo rimedio qua, questo in realtà è un appendino, che io avevo comprato per i foulard, e che non utilizzo, perché i foulard preferisco tenerli ben piegati nel mobile, e quindi questo ce l'avevo lì da una parte, ho detto come lo posso utilizzare, in questo modo, le ho attaccato semplicemente uno di questi, con l'adesivo, e qua le ho messo appunto, le sue collanine e i suoi braccialetti, così lei la mattina, quando viene a prendersi i vestiti, o quando ha finito di vestirsi, può venire a scegliere insomma il suo accessorio, senza metterci un'ora e mezza a sbrogliarli. Lì invece ho da mettere via ancora, la pila della roba che passerà a Matilde, quindi le cose meno sciupate, e invece dall'altra parte, ho la pila delle cose di Rebecca, che potrebbero ancora starle l'anno prossimo, quindi comunque quelle gliele tengo da parte. Adesso la roba per Matilde, la metto in un sacchetto sottovuoto, e la ritiro proprio in magazzino, anche perché da qui a quando riuscirà a metterla, passeranno almeno 4 anni, quindi comunque voglio che rimanga bene, anche se poi quando andrò a tirarla fuori dalla busta, la rilaverò tutta, e la sistemerò tutta, però nel frattempo, non rischio che ci vadano dentro i settini, le tarme, sapete queste cose che non mi pare di avere in casa, però non si sa mai, potrebbero sempre arrivare, quindi preferisco mettere tutto sottovuoto, invece le altre cose le andrò semplicemente a mettere nell'altra anta, qua a fianco dell'armadio, dove ho due scompartimenti, due ripiani, appositamente per fare il cambio degli armadi, e quindi andrò a stipare tutto lì dentro. Ok ragazzi, il video è finito, io spero di non avervi annoiato troppo, anche se mi sono dilungata come sempre, mi dispiace, divento logorroica quando sono davanti alla telecamera. Naturalmente, se avete dei suggerimenti, delle piccole accortezze, che magari voi avete già utilizzato, magari vedete che io invece potrei utilizzarla, per migliorare un po' anche la disposizione, o nel modo in cui metto le cose, fatemelo sapere nei commenti, e così anche io potrò migliorare un pochino. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, detto questo, vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!